3-0, non lascia spazio a interpretazioni il risultato di ieri sera tra Spes Praia e DRS Lio Group. I cetraresi guidati da mister Leonetti espugnano la palestra comunale di Praia Mare e dominano la gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie C calabrese. Gli ospiti partono subito bene, la Spes cerca di arginare gli avversari che però vincono il primo set per 20-25. Nel secondo parziale i cetraresi avanzano ancora più convinti e lasciano i padroni di casa a quota 14. Il terzo blocco vede ancora avanti cetraro con gli arancioni che chiudono sette partite sulla 19-25. Soddisfazione da parte dell'allenatore cetrarese, sono felice del lavoro che i ragazzi stanno facendo in palestra, detto mister Leonetti, è evidente la nostra crescita di partita in partita, soprattutto nella qualità del gioco che mostriamo in campo. Non ci interessa particolarmente fare risultato, ma mostrare una bella palla a volo, se poi coincidono ben venga. In questo modo cresce anche il nostro entusiasmo. Da sottolineare il grande impegno e il talento che sta mostrando il nostro libero classe 2002, conclude Leonetti. Su di lui e sulla sua crescita abbiamo puntato molto e sta rispondendo ottimamente alle aspettative della società. Delusione invece in Casa Spes che con la giornata di ieri ha estinto la squalifica del campo subita durante la partita di Coppa Calabria del 5 ottobre scorso, proprio contro i cetraresi. Dalla prossima giornata, ha commentato mister Borrelli, finalmente il nostro pubblico tornerà in tribuna. Più difficile è invece il ritorno in campo di molti dei nostri giocatori infortunati, Magurno, Ignoto, Armenante e Caruso. Anche contro Paola dovremo fare a meno di pedine importanti, ma nei prossimi giorni lavoreremo al massimo per portare a casa il miglior risultato possibile. Dunque non si risolvono i problemi in panchina per l'allenatore praiese che deve fare a meno di giocatori di spessore, sempre pronti a offrire il loro contributo ai giovani dell'Under-19 che offrono un grande supporto alla prima squadra.